E passiamo invece ora allo sport, finisce in pareggio la sfida alla vertice tra Treviso e Borgo Abugiano. Alla gol degli ospiti risponde Torromino, i bianco celesti, ora sono secondi in classifica. In servizio di Nicola Abrillo. Il Treviso sembra essere allergico alla Toscana. E' finita in pareggio dopo Pogibonsi anche lo scontro al Tenni contro il Borgo Abugiano e ancora una volta la formazione di mister Zanin finisce sotto di un gol. Poi recupera con un euro-goal di Torromino ieri in campo dal primo minuto. I bianco celesti in classifica sono così stati superati dal Casale e rimangono in seconda posizione. Il Treviso si fa vedere al decimo con Maracchi, poi Borgo Abugiano in due occasioni con Di Crescenzo e Di Martini. Allo scadere Gallon a liberarsi ma il tiro è centrale. Nella ripresa al 63esimo arriva il gol del Borgo Abugiano con Rocchi che approfitta di un errore di Zattin ed è 1-0. Il Treviso tenta di reagire con Gallon e Torromino ma con poco fortuna. Il pareggio arriva al 71esimo con l'attaccante calabrese di destro che trafigge Grandi. Poi ci prova ancora il Borgo Abugiano con Maretti da lontano fuori di un soffio. L'ultima azione è di Madiotto all'85esimo ma Grandi respinge. Un peccato però per come si era messa la partita devo fare comunque un applauso alla squadra che ha reagito. Era di stata una partita non facile. Abbiamo trovato un Borgo Abugiano che non ci ha fatto giocare tutto il primo tempo. Noi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo sbagliato parecchi passaggi. Certo, è un secondo tempo sicuramente da Treviso e siamo riusciti a pareggiare la partita. Lasciamo stare il gol e sono episodi che capitano nel calcio quindi non bisogna dare assolutamente la colpa a nessuno perché siamo una squadra e quindi continuiamo a lavorare. È un pareggio importante contro una gran squadra. Ma non c'è tempo per recriminare. Domenica nuovo incontro in Piemonte contro Valenzana, reduce da una sconfitta contro il Montichiari. Questa sera puntata speciale di lunedì bianco celeste dalle ore 20 e 30. In studio Capitan Bandiera per commentare partite e campionato. A seguire la differita dell'incontro Treviso-Borgo Abugiano.